Tutto questo digitale sta portando a un mondo pieno di rifiuti digitali. Zelpo, dappertutto, è un problema, perché poi questi rifiuti digitali inquinano, rilasciano degli acidi che vanno a finire nelle falde acquifere e poi noi ci beviamo l'acido. Questo, peraltro, riguarda un po' tutti noi, che a volte buttiamo via le batterie nella pattumiera, i cellulari, dappertutto, quando in realtà dovremmo buttarli, riciclarli nei posti adatti e pieno. Si basta andare nei negozi, quelli della grande distribuzione. Poi c'è un altro problemino. I nostri dispositivi contengono tutta una serie di cose che si chiamano terre rare, cioè provengono dalle terre rare e, purtroppo, a chi le estrae sono bambini di solito da sei anni in su e l'Unicef dice che sono 40.000 i bambini tra i sei e i sette anni che lavorano quotidianamente nelle miniere di cobalto per estrarre questo. E quindi, come dire, tutto il mondo dei rifiuti non è solamente fatto dei nostri computer, ma anche di server e anche di questo, che rappresentano poi la parte più grande e la parte più diffusa. Per non parlare adesso del fatto che l'intelligenza artificiale, per funzionare e fare tutte quelle belle cose, consuma una quantità d'acqua enorme che prima o poi anche lì la pagherè. Grazie. Grazie.